Adobe Premiere Pro non si avvia su Windows 11 ovviamente tu l'hai avviato il programma sta nei processi quindi il programma è in esecuzione però tu non lo vedi adesso ci clicco su Adobe Premiere carica, carica e carica fa la rotella ma non si avvia quindi Adobe Premiere Pro sta nei processi di gestione attività tasto destro su Start gestione attività oppure scrivi anche qua gestione attività gestione attività eccolo qua ed eccolo qua processi in background Adobe Premiere Pro dice che è in background ma sotto non c'è niente termino così l'attività ci sono altri Adobe Premiere Pro attivi chiudili, tasto destro sopra e fai termine attività chiudiamo qua e vediamo se si avvia ed ecco che Adobe Premiere Pro si è avviato su Windows 11 se invece hai altri problemi che Adobe Premiere Pro non si avvia commenta sotto al video in futuro cercherò di fare altre guide su Adobe Premiere Pro grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao